Il Jimmy Suzuki me l'ha portato via il Bisenzio e ne ancora non è stato ritrovato, dopo due mesi non è stato ancora ritrovato. La macchina di mio figlio, un Toyota, l'Han Cruise, ha la moto fino al tettino. È un disastro, un disastro. Due mesi dopo l'alluvione, alla cartaia c'è chi non ha ancora ritrovato la carcassa dell'auto trascinata dal Bisenzio. Qui, il 2 novembre scorso, il fiume ha assunto una forza inaudita che, come si vede da queste immagini girate dai residenti, ha trascinato alberi, oggetti e perfino un container che ha danneggiato le spallette del ponte. Sono state rimesse le spallette, però manca il passaggio pedonale e poi tutti i fiumi, gli angeli sono tutti devastati, è tutto devastato. A contribuire alla devastazione della cartaia è stato il rio Castagnolo, un piccolo affluente del Bisenzio, in parte tombato, il cui corso naturale è stato stravolto dalla piena, invadendo strade, giardini, case e causando una frana che minaccia tuttora la viabilità della zona. I residenti chiedono alle autorità un intervento di ripristino e di messa in sicurezza idraulica. O comune, o regione, qualcuno intervenga quanto prima perché se si dovesse ripetere quello che è successo il 2 novembre, questo fenomeno così anomalo, ma ora sta diventando ordinario dappertutto e siccome i tubi interrati non sono ancora puliti, non sono ancora sgombri di tutti i detriti e masse che ci sono, se viene un altro temporale di quella natura, di quello spessore, ristiamo appunto da capo. Qui, in quest'area qui, questi 700-800 metri quadri, c'era un oliveto, circa 100 olivi, che avevamo piantato noi. Però l'oliveto, il piano dell'oliveto è due metri sotto questi sassi, non è qui. Noi non calpestiamo l'oliveto, calpestiamo materiale che è stato portato da questa piena tremenda. Da un'oliveta è diventata un accumulo di sassi? Una pietraia, una pietraia, sì. Ecco, lei ha fatto degli interventi anche per provare a ripristinare un minimo il corso normale dell'acqua? Abbiamo una russa, ci siamo provati, ma per l'appunto si è rotta lì, è anche quella, è andata. Speriamo che, non lo so, so che è venuto il genio, ha un sacco di idee, ma non si è capito cosa vuol fare. Più a valle, alla confluenza col Bisenzio, l'alveo del rio Castagnolo è stato ripulito, ma chi abita in piazza della Cartaia chiede che l'intervento sia completato. Ora la mia paura è che sono arrivati lì con le ruspe e non hanno levato quella roba lì, la mia paura è quella. Sono rimasti gli accumuli di sassi? In caso di piena mi può ripassare un'altra volta in casa. Grazie a tutti.